Gli aggiornamenti di oggi riguardano la direzione di Arkiv. Qui i russi hanno lanciato una nuova operazione offensiva atta a spingere gli ucraini per 20 chilometri dal confine e poter avere abbastanza spazio di manovra per ulteriori operazioni verso Arkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina. Per questo ambizioso sforzo i russi hanno allocato 50.000 soldati, 400 carri, 930 corazzati e 900 pezzi di artiglieria. I russi hanno accumulato forze in quest'area per diverso tempo e hanno cercato di nascondere i movimenti delle truppe non destare sospetti. Tuttavia, alla fine è stato scoperto che stavano spostando personale ed equipaggiamento via ferrovia verso parti isolate dalla regione di Kursk, per poi farli marciare verso i punti di schieramento nella regione di Belgorod. Per rinforzare ulteriormente il gruppo di forze nord, sono state spostate truppe da Kupiansk. Gli insistenti attacchi missilistici che hanno bersagliato le infrastrutture energetiche della regione di Arkiv servivano proprio a facilitare quest'operazione. Hanno inoltre bersagliato concentrazioni di truppe, equipaggiamenti e posti di comando, il che ha dato chiaro segnale di un'offensiva in preparazione. Questo ha allarmato gli ucraini che hanno preparato fortificazioni per bloccare offensive nella direzione di Arkiv o a nord di Kupiansk. L'operazione era stata predetta dall'intelligence ucraina per metà di maggio. È importante notare che a Belgorod sono presenti solo 32.000 soldati schierati per l'offensiva, mentre 10.000 sono a Kursk e altri 8 nella regione di Bryansk. Il comandante del gruppo di forze nord è il generale Aleksandr Lapin, che ha una pessima reputazione nell'esercito russo per le due significative sconfitte proprio nella regione di Arkiv durante la precedente controffensiva ucraina. Prima dell'inizio degli assalti terrestri hanno effettuato un intenso sbarramento d'artiglieria oltre a usare bombe plananti. Lo scopo era quello di sopprimere le posizioni di fuoco ucraina e ammorbidire le difese sul confine prima dell'inizio dell'operazione. I russi hanno inoltre cercato di aggravare i tentativi di rifornimento e rinforzo ucraini distruggendo due importanti ponti, Azibine e Stalli-Saltiv. Come risultato di questi intensi bombardamenti sono stati inflitti enormi danni agli insediamenti sul confine, come la cittadina di Vovchansk, di cui la metà è stata distrutta in una sola notte. Orso offensivo è diviso in due assi, verso Litsipi e a un altro verso Vovchansk. Nella direzione di Litsipi sono state schierate piccole unità lungo il confine per mettere in sicurezza gli insediamenti vicino e facilitare ulteriori avanzate. Le forze russe sono riuscite ad avanzare di 4 km dal confine e hanno cominciato combattimenti vicino a Strilekna, Pirna, Krasne e Borisivka. Nonostante le fonti russe riportino la cattura di questi villaggi, in realtà erano e continuano a essere nella zona grigia, quindi mantenere una presenza in essi è problematico e non sostenibile. Nel frattempo nella direzione di Vovchansk la situazione è molto più complicata per i russi in quanto la città ospitava 17.000 persone. Si trova inoltre a 5 km dal confine, mentre gli insediamenti di Pletenivka o Ilzeve e Atiszeve ospitavano posizioni di combattimento molto vicine alle posizioni russe. La distruzione del ponte vicino a Zibine sembra essere un tentativo di ridurre i rifornimenti verso Vovchansk per indabolirne le difese. Tuttavia è grande all'incirca come Chazilyar e Krasnevivka, entrambi i teatri di sconti nel Donbass, dove i russi hanno dovuto allocare decine di migliaia di truppe. E le forze ad Archiv non hanno questo tipo di numeri, quindi a meno che non ne schierino altre, non saranno in grado di prendere Vovchansk e di andare oltre i minuscoli insediamenti al confine. La densa concentrazione di forze russe è diventata presto un bersaglio per gli operatori dronici della 42esima meccanizzata. Questo grazie al fatto che l'intelligence ha avvertito per tempo l'esercito, che ha rischierato gli operatori che si erano distinti nella direzione di Bakhmut. Una colonna di 4 BMP e un camion si è ritrovata in un'iboscata e distrutta poco dopo il confine. Immagini cruente mostrano un soldato russo suicidarsi con una granata, sapendo che non sarebbe arrivato aiuto. Ci sono state anche ondate di attacchi una dopo l'altra per sostituire quella precedente. I russi hanno anche commesso l'errore di accumulare corazzati in un unico punto, il che li ha resi un bersaglio prioritario. Oltre a parcheggiare vari BMP all'aperto, forse credendo che non ci sarebbe stata alcuna resistenza, ma gli operatori dronici Ukeaini erano ancora all'opera. La stessa sensazione che la direzione di Kharkiv fosse sicura ha portato i soldati a viaggiare sui tetti dei corazzati, cosa che però li ha resi facile bersaglio dei droni Ukeaini. Poco tempo fa la 42esima effettuava gli stessi attacchi a Bakhmut, indicando che l'offensiva russa ha bloccato alcune unità ucraine. Il teorico obiettivo russo è quello di prendere la città di Kharkiv, ma è un risultato inottenibile con soli 32.000 soldati. E infatti la seconda città più grande dell'Ukraine coprente un'area di 140 km2 e ha una popolazione di 1.4 milioni di persone. 13 volte più grande di Bakhmut e con 20 volte la popolazione, anche le fonti russe hanno dovuto ammettere che ci vorrebbero almeno 300.000 soldati per catturarla. Secondo le fonti, il piano sarebbe la creazione di una zona a cuscinetto di 20 km per allontanare l'artiglieria Ukeaina dal confine ed evitare che gli obiettivi militari a Belgorod vengano bersagliati. Tuttavia anche questo è un obiettivo difficile da ottenere per la presenza di grosse fortificazioni che richiederebbero ulteriore personale per essere superate. L'unico obiettivo realizzabile con l'incorrente numero di forze è l'attirare e bloccare le truppe Ukraine per evitare che vengano rischierate verso zone più intense del fronte e i russi quindi possano tentare uno sfondamento. Tuttavia al momento non sono state necessarie truppe addizionali e gli ukeaini sono stati in grado di evitare che i russi ottenessero progressi significativi. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ukeaini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.